Per i 44 femminili al tatami 3, in attesa di chiamata Camarda, Giulia e Mognon, Erika. Al tatami 1 si preparino Pizzinat, Alessandro, Lazzarini e Edoardo. Più 81 kg al tatami 5, Ballarin, Andrea, De Fazio, Nicola. Tatami 2 si preparino Boscaia, Giulia, Menegoglia, Licia. Grazie a tutti. Grazie Vince Andrei Alex Sul tatami dal grande Eric Vince Gasparotto Sul tatami Pizzotto Thomas e Angie Giancarlo